Un saluto, ben ritrovati come state, buona giornata, buon pomeriggio, buona serata, buonanotte a seconda di quando vedete questo video. Vi invito come sempre a lasciare un like qui sotto e iscrivervi in questa zona, attivate la campanella. Vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'app di numero 10, ci siamo noi, ci sono tante notizie esclusive live, le nostre dirette esclusive, a breve faremo delle dirette live solo su numero 10, quindi scaricatela gratuitamente, tra quelli che la scaricano in palio, due biglietti per Mila Juve e anche la maglia del Milan personalizzabile con il giocatore che volete, magari proprio Ben Nasser. Si parla giustamente dei rinnovi di giocatori, su tutti quello di Rafa Leao è inevitabile, è il giocatore più mediatico del Milan, è il giocatore più forte, è il giocatore leader tecnico, top player, MVP della scorsa stagione, che anche quest'anno sta facendo cose straordinarie e quindi ci sta che sulle prime pagine finisca Rafa Leao. Però noi che abbiamo il Milan nel cuore sappiamo che oltre a Rafa Leao ci sono altri giocatori cui teniamo venga rinnovato il contratto anche in tempi brevi. Tra questi c'è Ben Nasser, che io lo chiamo Lupin perché ruba tanti palloni, giocatore che il primo dicembre farà 25 anni, non è giovanissimo ma sta entrando nella maturità, insomma con la continuità lui può alzare ulteriormente il livello, Algerino 1,75 che ha questa scadenza che non è ancora d'allarme rosso ma che va cerchiata con il rosso perché il 30 giugno 2024 non è domani ma nel calciomercato è la prossima settimana se non dopo domani. Quindi va rinnovato il contratto, entro direi la primavera, si può rinnovare anche in estate, però se arrivi in estate a quel punto si entri nella zona rossa. Come per Leao sarà decisivo insomma come scadenza febbraio, marzo, aprile, se si va oltre diventa molto problematico. Qualche mese fa avevamo di fatto tutto pronto, c'era già la data il giovedì di una settimana successiva rispetto a quando se ne parlava ci doveva essere l'annuncio, poi scoppiano le voci su Invescorp e quindi tutto viene congelato. Poi da Invescorp, sapete, si passa a Redbird e a quel punto c'era un accordo per il rinnovo che era intorno ai 3 milioni, 3 milioni e 2 con Ben Nasser che era favorevole. Il suo agente Musa Sissoko pure. Le voci di passaggio di proprietà hanno da un lato bloccato tutto, dall'altro ingolosito un po' la gente e pensando che adesso arrivano i soldi possiamo chiederle di più. È passato del tempo, si è iniziato a parlare anche di abboccamenti da parte del Liverpool e il Milan ha provato un po' a rimbastire anche il discorso di rinnovo ma nel frattempo, ecco, sul piatto sono arrivati argomenti diversi. Si spegne anche la luce, o meglio, si abbassa la luce. Cioè una richiesta di contratto che non è più di 3 e 2, sulla quale c'era l'accordo ma che si possa avvicinare ai 4 milioni e mezzo di Te Fernandez. Diciamo che a 4, magari con qualche bonus, Ben Nasser firmerebbe. Ora, Ben Nasser è un giocatore importantissimo per il Milan. Quest'anno ha fatto 7 partite e un gol. È un nazionale algerino. Fortunatamente per noi non farà la Coppa d'Africa, nel senso che non andremo a usurarlo. Ci dispiace per lui ma per noi è una cosa buona. È spesso MVP, ha una mappa di calore che è tutto campo rossa. Ha fatto in questa stagione 66,7 tocchi a partita, 89% di usciti. 0,7 intercetti a partita, 1,9 take la partita. Duelli 20,57% di cui atterra 59%. I numeri non descrivono le sue qualità, dinamismo, recupero palla, far ripartire l'azione. E ultimamente sta trovando anche un po' di più la via del gol. L'anno scorso l'ha fatto e quest'anno ha già timbrato un gol. L'anno scorso lui aveva fatto, andiamo subito a recuperarlo, credo 3-4 gol, forse 3 gol. L'anno scorso lui aveva fatto 2 gol. Mi ricordo male 2 gol e 1 assist, però ecco gol, quello da fuori con sponda di Giroud, molto molto importante. Ora che cosa succede? Provo a accendere, non se si illumina qualcosa di più, non fa, non la rispegno, scusate. Ok, è una lampada in fondo ma illumina poco. Che cosa succede? Che il suo agente Musa Sisokuk, tra l'altro quello stesso Diad Lee, si sta un po' facendo desiderare. E chiaramente questa cosa non fa piacere nei piani alti di Vialdo Rossi. Il giocatore recentemente sul futuro di Leao aveva dichiarato, è un giocatore talentuoso, fa parte di quella categoria di giocatori molto molto forti. Quindi sembra riconoscere che è di un altro livello. Siamo contenti per lui perché aiuta bene la squadra, certo che deve rimanere, abbiamo un progetto, dobbiamo fare il meglio possibile per andare il più lontano possibile. Quindi parla un po' da leader e dice, caro là, faresta perché qui dobbiamo fare tante cose insieme anche per il futuro. Però bisogna praticare bene ma anche razzolare bene, no? Mi verrebbe da dire. Non credo che sia una cifra insuperabile, irraggiungibile meglio quella dei 4 milioni di euro. Però la sensazione di qualcuno è che Benazera abbia alle spalle un'offerta importante. Accenduto qui di due potrebbe essere quella del Liverpool, con Klopp che un grande stimatore del nostro centrocampista, e che quindi prenda un po' il tempo. Dall'altra parte, per il Milan è un giocatore importantissimo. Nei prossime settimane si continuerà a parlare di rinnovo. Qualora lui non facesse vedere la voglia di vestire il rossonello che ha fatto vedere, ad esempio, Teo Hernandez, è chiaro che si andrebbe incontro a situazioni diverse. In estate lui ha una clausola da 50 milioni di euro. Quindi se il Liverpool, senza rinnovo, lo volesse, arrivasse con 50 milioni di euro, se lo potrebbe prendere. Dall'altra parte, il Milan in questo momento preferisce privilegiare la pista di rinnovo di contratto, alzerà un po' l'offerta, ma dall'altra parte vorrà vedere Maldini la stessa volontà di venersi incontro. Se non rinnova, anche qui vedi sopra, come per Leao, escludo che lui possa restare a un milione e mezzo per quest'anno e anche l'anno prossimo. Se ha un estimatore potrebbe arrivare in estate, io gli consiglierei di rinnovare il contratto. Andare a prendere più del doppio non sarebbe affatto male. Benassero è un giocatore che viene sottostimato in Italia. Di lui sentiamo, soprattutto da fuori, è arrivata una squadra retrocessa, dall'Empoli, eccetera, eccetera. Dopodiché è un giocatore molto stimato in Europa, da Klopp, il PSG lo aveva seguito, Guardiola è un altro che gli ha messo gli occhi addosso da tempo, seppur non abbia fatto mai un'offerta, ma ne monitora la crescita. E quest'anno da Benassero chiediamo più continuità, e mi sembra che la stia facendo vedere, che si lascia alle spalle i problemi fisici che l'hanno attannogliato negli anni scorsi e che dia, appunto, con i suoi giri alti del motore, prestazioni importanti, in termini qualitative e quantitative. Io spero che rinnovi, però ecco, non è una grana, ma è una situazione della quale, secondo me, bisogna parlare un po' di più. Con il Milan, che comunque, monitora sempre il mercato centrocampisti, ad esempio c'è quel Douglas Lewis della Stonevilla che va in scadenza, che è un profilo che piace molto, su cui, tra l'altro, c'è pure il Liverpool, quindi vedete le incroci, ha 24 anni, è brasiliano, giocatore molto, molto interessante, che il Milan aveva già addocchiato in estate, ma la Stonevilla non lo voleva accedere, piuttosto lo perde a zero, lo perderà a zero. Vediamo, aspettiamo, vediamo anche qual è la crescita di Vranx, ma non bisogna assolutamente perdere Benassero, quindi, caro Isma, guardiamoci negli occhi, niente scherzi. Al Milan, vale, secondo me, anche il discorso fatto per Leao. Al Milan tu sei una colonna, cresci, stai crescendo, e altrove diventeresti uno dei tanti, magari rischieresti di vedere tarpate le ali sul nascere, quando di fatto la tua carriera ha quasi 25 anni, è importante, ma può avere dei miglioramenti a livello di prestazioni individuali. La squadra sta crescendo, stai crescendo anche tu, e quindi, niente scherzi, resta qui. La richiesta non è folle, può andare a prendere 4 milioni di euro, lo dicevamo, quando si alza il livello si alza anche il tetto salariale, si deve alzare, l'ha detto anche Maldini. La speranza è che non abbia dietro, appunto, come si dice, un'offerta importante da qualche squadra. A quel punto, però, 50 milioni di euro, quello è il riferimento, quella è la clausola. Con 50 milioni, io preferisco tenermeli i miei quali buoni, ma dovesse andare via quella cifra, è chiaro che, insomma, può andare comunque a prendere giocatori importanti. Douglas Lewis è uno di questi, tra l'altro, parametro zero, potresti destinarle risorse altrove, ma è un discorso in questo caso che non voglio approfondire. Isma, niente scherzi, mi raccomando. Milan, andiamo all'incontro. Isma, viene incontro a noi. Musa si soco che la gente si faccia desiderare un po' meno. Quindi, no allarme rosso, sì attenzione, ecco. Siamo a livello dell'attenzione. Iscrivetevi, mi raccomando, ditemi che cosa ne pensate. A me Benassar piace tantissimo, giocatore sottovalutato in Italia, molto stimato in Europa, un motivo ci sarà. Un abbraccio. Iscrivetevi al canale, scaricate la BDS, impaglio la magliata di Milan e due biglietti per Milan Juve. Partitona. Vinciamola, mi raccomando.